Ciao a tutti, giocatori! Oggi ci addentriamo nel mondo misterioso di Minecraft, concentrandoci su un personaggio intrigante, Erobrine. Esploreremo insieme la storia inquietante che circonda questa figura enigmatica. Erobrine è un personaggio affascinante che ha catturato l'immaginazione dei giocatori di Minecraft in tutto il mondo. La leggenda di Erobrine è iniziata nel 2010, quando un utente affermò di aver avvistato una figura misteriosa all'interno del gioco. Lui postò uno screen dell'entità sul forum di Minecraft, ma il primo commento fu di un utente chiamato Erobrine. La storia di Erobrine è avvolta nel mistero. Alcuni credono che Erobrine sia lo spirito di un giocatore scomparso nel gioco, un'anima in cerca di vendetta o un simbolo di lutto, rappresentando la perdita di una persona cara. Altri invece vedono in Erobrine sia il fratello morto di Nocce, ma lui ha sempre smentito di avere un fratello. Erobrine è noto per il suo aspetto inquietante, un volto pallido simile a Steve ma con occhi bianchi senza pupille. Viene spesso descritto mentre si muove furtivamente nelle ombre, e alcuni giocatori sostengono di averlo incontrato durante le loro sessioni di gioco, distruggendo case oppure creando tunnel con torce di pietra rossa. Tuttavia, non esistono prove concrete che Erobrine sia realmente presente nel gioco. Nonostante la mancanza di certezze sulla sua esistenza, la leggenda di Erobrine continua ad affascinare i giocatori di Minecraft. Alcuni lo considerano un simbolo dell'imprevedibilità del gioco, rappresentando le sfide e i pericoli che i giocatori possono incontrare. In conclusione, Erobrine è un personaggio misterioso che ha saputo catturare l'immaginazione dei fan di Minecraft in tutto il mondo. La sua storia testimonia il potere dell'immaginazione umana e dell'industria del gaming.